Proseguiamo con queste applicazioni che ci potrebbero essere utili poi per la risoluzione degli esercizi d'esame riguardanti questo capitolo, i corpi rigidi, i sistemi rigidi e a tal proposito nel precedente video abbiamo cominciato, abbiamo visto l'esempio del pendolo composto, del pendolo fisico quando siamo in presenza di piccoli oscillatori non superiori a 15 gradi, a i pi greco di cesimi radianti. Qui consideriamo un'altra casistica, vediamo questo oggetto sempre assimilabile a una sbarretta rigida omogenea, supponiamo lunga L, che vedete è incernirata, incardinata, qui, stavolta il cardine lo diciamo con la lettera C, C sta per cardine, che si trova decentrato rispetto al centro di massa del sistema che è quando anche in questo caso, come in precedente video l'abbiamo spiegato, coincide col baricentro, punto nel quale è concentrata l'intera, è concentrata l'intera, tutta la forza peso del sistema. Allora, la situazione A, l'ho chiamata così, è una situazione in cui siamo in perfetto equilibrio, ma com'è possibile? Vedete che ho disegnato qua, con i potenti mezzi delle mie dita e delle mie mani, una corda, una fune, che dall'alto riesce a reggere e mantenere in equilibrio questo oggetto assimilabile rispetto a una sbarretta lunga L, rigida, omogenea. Il discorso però qual è? Il discorso è che quindi cosa possiamo dire su questa prima situazione? Beh, possiamo dire che qui il corpo non sta ruotando, cioè non è in rotazione, è in equilibrio, quindi la velocità del nostro baricentro, studiando come al solito il moto, il centro di massa, è nulla, e in particolare non c'è rotazione, quindi possiamo dire che in A, mi chiamo con la velocità, il modulo della velocità angolare in A, è praticamente nullo. Poi chiaramente che succede però? Non possiamo rimanere così, c'è la stazione B, fuori dall'equilibrio nella quale prima che ci arrivi in B, che le istantanee sono due, stazione iniziale e stazione finale, quella corda io ho preso una bella cesoia, una forbice, bella bella tosta, e l'ho tagliata. Vado a bruciare, a tagliare la corda, tipico problema, che tra l'altro abbiamo già visto anche nel caso del capitolo precedente, e se la va a tagliare immaginatevi, no? Questo è il cardine e la sbarretta fa questo, no? Si mette a penzolare, si mette a oscillare, e capite che questa volta le oscillazioni sono belle elevate, con l'oscillazione di un angolo massimo di 90 gradi, che è questa situazione B, angolo di 90 gradi. Cioè capite che il centro di massa, il nostro baricentro, ecco qua cosa fa? Compie un arco di circonferenza, compiendo un moto, attenzione, circolare non uniforme, perché la velocità inizialmente è 0, e in B la velocità, la velocità in B che poi la periferica qui, in corrispondenza del punto più distante dal cardine, C, è una velocità che chiaramente non sarà una velocità, la velocità non è costante, ogni volta cambia, aumenta sempre di più. E vedremo tra le domande quanto varrà la velocità periferica, cioè la velocità apposta qui, in questo punto, a distanza L dal cardine. Chiaramente quello che va detto è che non è possibile in questo caso, quindi cosa possiamo calcolare qui? Dunque, che cosa ci chiede il nostro problema virtuale? Che cosa dobbiamo, cosa calcoliamo qui? Beh, intanto si vuole calcolare la, attenzione, la velocità angolare massima raggiunta dal corpo in questa situazione. E poi, non solo, le tre velocità, quanto vale in corrispondenza del cardine? Qui, vedremo che è nulla, quanto vale la velocità qui e quanto vale la velocità, quindi qui, la periferica, quindi posta a distanza L dal cardine. Questo faremo. Queste sono le domande che vengono chieste. Ora, facciamo alcune considerazioni, è chiaro che qui non possiamo, ricordandoci quell'equazione differenziale non lineare, che avevamo resa lineare con l'approssimazione di piccole oscillazioni, qui non essendoci piccole oscillazioni, ma oscillazioni elevate del nostro oggetto rigido, della nostra sbarretta rigida omogenea, è chiaro che qui non possiamo risolverla facilmente in quel modo, con quelle facce di approssimazione, quell'equazione differenziale e pertanto qui non si può calcolare il periodo delle piccole oscillazioni. Il periodo delle grandi oscillazioni in questo caso non lo possiamo calcolare con quel modo, dovremmo risolvere quella complicata equazione differenziale non lineare. Ma veniamo al punto, cosa possiamo dire sul, anche qui, studiamo il moto del baricentro, il moto del centro di massa. Qui possiamo calcolare, possiamo fare solamente, in questo caso, visto che non si può calcolare il periodo delle oscillazioni, di queste grandi oscillazioni, possiamo fare, come avevamo fatto peraltro anche nel pendolo semplice, delle considerazioni di tipo energetico, scattando queste due istantanee in A e in B e calcolando l'energia, e dicendo che l'energia meccanica in A è uguale a quella in B e quindi si conservano, ma perché si conservano? Perché l'unica, la reazione, che anche qui ci sarebbe del cardine, che sarebbe questa, R con C, mentre poi questa sarebbe la forza peso, che è concentrata interamente sul baricentro, se supponiamo che non ci siano cigoli, quindi se non siano presenti attriti in corrispondenza del cardine, quindi dal punto di vista ideale, potremmo dire che l'energia meccanica si conserva, quindi si mantiene costante nel passare dalla stazione A alla stazione B. Quindi quello che possiamo dire è che l'energia meccanica in A coincide con l'energia meccanica in B. In questo modo, ve lo dico subito, con questo tipo di equazione, riusciremo a calcolare quanto vale, supposta appunto la velocità di rotazione iniziale nella stazione A, nulla, calcoleremo la velocità massima del pendolo, la velocità angolare massima del, ovvero in B, cioè del pendolo, del pendolo composto in B, velocità angolare massima, questo andremo a calcolare. Ora, come fare? Intanto dobbiamo dire una cosa, dobbiamo dire che come si calcola, dunque chi è l'energia meccanica in A? In A c'è solamente energia potenziale del peso, non c'è energia cinetica rotazionale perché non c'è rotazione e quindi la domanda è cosa facciamo per calcolarci questa energia potenziale? Bene, l'energia potenziale del peso chi è? Beh, ovviamente nel passare da A e B, come al solito, scegliendo il solito riferimento, quindi una linea a cui potenziale, una superficie qui potenziale a potenziale 0, vedete che l'energia potenziale del peso e il peso, vi ripeto, interamente concentrato nel bariocentro G, sarà quindi l'energia meccanica in A, lo scriviamo qua, chi è? È solamente U con A, ma U con A sarà la totalità delle masse, la massa totale del sistema rigido, in questo modo si studia, si calcola l'energia potenziale di un corpo ligido, un corpo esteso, per G accelerazione del peso non cambia, per ovviamente H, dove H in questo caso è questa distanza qua, questa distanza qua è, vedete, Cg e Cg supponendo il cardine esattamente all'estremo, quindi questa in mezzo è la metà di L, quindi L mezzi, no? Chiaramente teniamo presente che qui io sto supponendo, questo problema teorico che sto facendo, sto supponendo il cardine posto qui, in un problema d'esame potrebbero anche dirmi che il cardine è stato un'altra parte, quindi per calcolare, poi lo vedremo, vedremo il momento di inerzia, dovremo magari applicare con Steiner, adesso lo vediamo, quindi occhio che non è detto che il cardine si trova proprio qua, potrebbe trovarsi a distanza, non so, un certo distanza dal baricentro, dal centro di massa che ci potrebbero specificare nell'eventuale problema. Chi è l'energia meccanica in B? Allora, l'energia in B, l'energia potenziale del peso, chiaramente siamo in B, si è trasformata, si è totalmente convertita in energia cinetica però rotazionale, che vi ricordo è, quindi è Kb, è un mezzo, momento di inerzia, attenzione, momento di inerzia assiale che passa per C, per il cardine, quindi con C, quindi è scalare, omega con B quadro. E niente, a questo punto eguagliamo. Eguagliando, vedete, otteniamo che un mezzo mg per L, così lo scrivo, è uguale a un mezzo momento di inerzia rispetto al cardine omega con B quadro. Chiaramente, moltiplicando per due, se ne vanno questi, l'incognita, chiaramente la massa totale del corpo esteso, del corpo esteso, ce la devono dare, G la conosciamo, L è la lunghezza della sbarretta, in questo caso che stiamo supponendo una sbarretta, chiaramente la dovremmo conoscere, e quindi, vedete che la prima domanda, la velocità angolare massima raggiunta da questo pendolo composto che oscilla con grande oscillazione fino a 90 gradi, è semplicemente la radice quadrata, perché vedete che viene omega con B quadro, è mgl sui con C, di mgl fratto il momento di inerzia, che noi conosciamo, perché è il momento di inerzia di una sbarretta rigida omogenea, nel caso in cui il calcolato rispetto, abbiamo visto, al cardine che si trova a uno dei due estremi, quindi la distanza tra C e G e L mezzi, l'intera lunghezza L, e abbiamo visto, ovviamente qui è molto semplice, un terzo massa totale per l'a quadrato. Chiaramente, vi ripeto, potrebbero non dirci proprio che esattamente sta là il cardine, e quindi dovremmo magari applicando, ripeto, il teorema di Eugen Steiner, perché ovviamente l'importanza è che in un esame ci sia l'applicare Eugen Steiner, occhio che quindi non è detto che sia così immediato, quindi qui ci metterò un terzo M e L quadro, notiamo come M e M se ne vanno, L e L quadro se ne vanno, 3 ripassa sopra, si ottiene in definitiva che la velocità angolare massima di questo pendolo composto E, B inteso come ovviamente massima, perché siamo nel punto di massima oscillazione, chi sarà? E tre volte, tre volte G fratto L, stavo, volevo mettere la rinefrazione messa in quel modo, ma facciamolo bene, eccolo qua, 3 G fratto L, ovviamente in questo caso, perché il momento di inerzia rispetto al cardine è un terzo M e L quadro, non è detto che sia ovviamente quello, ma noi sappiamo comunque calcolarlo, grazie, ripeto, attraverso l'applicazione del teorema di Eugen Steiner. Ci sono poi altre domande che ci possono fare, le velocità le velocità in C, in G e in P, in questo punto, velocità periferica, in questo punto distante L dal cardine. Bene, allora perché la velocità in C è zero? Perché lo possiamo dire subito? Perché la velocità in generale è una grandezza dipendente dalla distanza dall'asse di odazione, cioè E omega per R. Ma R qui è zero perché l'asse di odazione è proprio, passa per il centro, per il centro, per il cardine C, e quindi la velocità, attenzione, nel cardine, in corrispondenza del cardine è zero. Non è zero la velocità in corrispondenza del centro di massa, del baricentro, del nostro sistema rigido, appunto nel quale è concetta tutta quanta la forza peso. Chi è? Beh, qua è molto semplice, sarà omega, V con G, sarà sempre omega, omega con B, ovviamente in situazione B, per R, dove R è la distanza del baricentro dall'asse di odazione che passa per C e quindi L mezzi. Ovviamente vedete che questa l'abbiamo calcolata, è radice di 3G fratto L, R è un L mezzi e quindi questo lo possiamo scrivere come radice di 3G L quadro diviso 4L perché non faccio altro che portare L mezzi dentro la radice diventa L quadro quarti, anche qui se ne vanno L con L, vedete che si ottiene come la velocità in corrispondenza del baricentro è radice quadrata di 3GL fratto 4, 3 quarti GL. V in P, questo punto P, che stavolta è apposta di rispondenza L, quindi V di P è la stessa formula, sempre omega con B per R, ma attenzione, non, omega B è radice di 3G su L, ma R è la distanza L stavolta, che diventa radice quadrata di 3GL quadro su L perché L lo porto dentro, diventa radice di L quadro, L quadro e L se ne vanno, questa volta è radice di 3GL e vi invito a, se non mi sbaglio che era radice di 2GL, quella del pendolo semplice, vi invito a guardare quella del pendolo semplice e notiamo la differenza che c'è tra il caso del pendolo composto fisico e il caso del pendolo semplice, questo è quello che possiamo dire su il pendolo composto, abbiamo visto per piccole oscillazioni e per piccole oscillazioni. Non perdetevi, non possiamo, non potete perderlo, il prossimo video nel quale ne faremo un'altra applicazione, cioè dove parleremo per la prima volta nei colpi digiti di urti perfettamente anelastici, cioè considereremo il caso in cui c'è sempre questa sbarretta che però viene sparata, viene colpita da un proiettile, no? Perdetevi il prossimo video. Ciao a tutti!